Stai ascoltando un messaggio registrato in diretta dal programma La Voce del Pastore, in onda su parole di vita. Leggiamo insieme in Luca capitolo 13, verso 7. Dice così, leggiamolo insieme. Dice dunque ai vignaioli, ecco, sono ormai tre anni che vengo a cercare frutto da questo fico e non ne trovo. Taglialo. Perché sta lì a sfruttare il terreno? Finisce col dire una breve parabola. Finisce il verso, se lo rileggiamo, lo possiamo anche sottolineare. Taglialo. Finisce tragicamente le indicazioni che riceve la decisione del padrone. Taglialo. Finisce col, un giudizio imminente. Vicino. Sono tre anni. E se prendiamo questa scena, possiamo vedere Gesù che per tre anni, tre anni e mezzo, aveva predicato e Israele non ne voleva sapere. Signore aiutaci. Tre anni il ministero di Gesù per Israele, anziché migliorare, peggiorò. Signore aiutaci. Signore aiutaci. E non porto frutto. E noi sappiamo quanto gli era costato. Signore aiutaci questa sera. In Luca 19, 41, ci sono dei collegamenti meravigliosi che ci parlano. Dice così. Quando fu vicino, vedendo la città, pianse su di essa, dicendo Gesù conosceva la superficialità dei cuori, tre anni e mezzo. Sapeva che erano artificiali. Sapevano che era come quel fico. Gesù prende il fico per dare insegnamenti pratici. Guardiamo nel verso 42. Gesù profondamente è dispiaciuto e dice «Oh, se tu sapessi, almeno oggi, ciò che occorre per la tua pace, ma ora è nascosto ai tuoi occhi». Il fico, con solo foglie, è un esempio che serve a noi. «Almeno oggi», dice qui, «almeno oggi». Era anche la stagione per portare frutto. Ogni giorno il Signore Gesù parlava, 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 ma non c'era niente da fare. «Quest'oggi, nella parola di Dio, si protende, si prolunga ad ogni giorno». Il Signore oggi non sta parlando oggi a Gerusalemme, sta parlando a chi ascolta. E infatti lo Spirito Santo dice, nel capitolo 3, verso 7, dell'Epistola agli Ebrei, «Come dice lo Spirito Santo, oggi, se odi la sua voce». Non indurite, leggiamo anche il verso 8, «Non indurite i vostri cuori, come fecero quelli al tempo di Gesù, come nel giorno della tentazione nel deserto. Oggi, se odiamo la sua voce, è la buona stagione, perché possiamo portare frutto». Signore, aiutaci. Quando Gesù parla, quella è l'ora che dobbiamo ascoltare. Mentre la parola è fresca, è viva, è unta, allora noi dobbiamo dare delle risposte. quando rimandiamo è passata la stagione, perché subentrano altre cose. In Marco 11, 13, leggiamo insieme, Veduto di lontano un fico, che aveva delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualche cosa, ma giunto al fico, non vi trovò nient'altro che foglie, perché non era la stagione dei fichi. in quella zona la voce di Gesù si era fatta sentire per tre anni e mezzo e non avevano risposto. Se non rispondiamo oggi, mentre abbiamo la possibilità, il rimandare passano i giorni e diventiamo come quel fico, solo foglie. Perché Gesù piangeva su Gerusalemme? Perché capiva la superficialità che avevano verso Dio. avevano una vasta conoscenza della parola di Dio e si mantenevano con quella pomposità come il fico che non aveva frutto. Gesù parlava, ma loro. A questo serve a noi, perché noi, l'oggi, ogni giorno lungo il mio cammino, deve essere sempre un continuo presente che noi dobbiamo avere comunione con il Signore. Perché quando ci cominciamo ad abituare a sentire e a non fare, ci formiamo proprio come quel fico quell'oggi è sempre costante nella parola del Signore, perché l'oggi vuol dire mentre parla dobbiamo subito agire o reagire, reagire contro ciò che non piace a Dio e agire in favore di fare quello che ci dice. Se no, restiamo sempre con una conoscenza superficiale. In Isaia, nel capitolo 49, verso 8, dice così, così parla il Signore, parla oggi, nel tempo della grazia io ti esaudirò, nel giorno della salvezza ti aiuterò, ti preserverò sempre e farò di te l'alleanza del popolo per rialzare il paese, per rimetterli in possesso delle eredità devastate. Il tempo della grazia, il tempo della salvezza, rimandare questi due punti vuol dire rimandare la vita eterna, rimandare le possibilità, le occasioni che il Signore ci dà, perché ogni volta che noi siamo di fronte alla Sua parola, l'ascoltiamo, la meditiamo, la digeriamo, ci muoviamo, sono delle opportunità che non dobbiamo perdere. quando cominciamo a tralasciare, a rimandare, diventiamo dei bravissimi religiosi, ma siamo vuoti. Leggiamo in Isaia 55,6 lo Spirito Santo continua a parlare e dice cercate il Signore mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lo Spirito Santo anziché rimproverarci per la nostra negligenza e la nostra indifferenza, coglie sempre l'occasione di parlarci al presente, non ci sta rimproverando qui, sta dicendo di attenzione, non rimandare. Lo Spirito Santo anziché rimproverarci dice non perdere l'occasione, il tempo passa, ci fa comprendere che passa la buona occasione, passa la buona stagione, noi continuiamo a restare dove siamo stati piantati e il Signore vuole che noi portiamo frutto, perché quando il Signore ci ha scelti e ci ha chiamati, lo scopo ci ha trapiantati nella sua vigna, lo scopo suo è che noi portiamo frutto e il frutto sia continuo finché ci lascia qui. In Giovanni capitolo 15 verso 16 ci parla molto chiaro. Lui prende l'esempio del fico, prende l'esempio dei fichi che sono ben conosciuti, ma sono lezioni che ci servono. Dici a noi stasera, credente, dove ti trovi, ascolta, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia permanente, continuo, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome egli ve lo dia. Questo come Israele, questo fico, come Israele aveva solo foglie, noi non dobbiamo ripetere la stessa cosa perché il Signore ci parla attraverso questi insegnamenti. Nel capitolo undici di Marco nel verso tredici dice veduto da lontano un fico che aveva delle foglie andò a vedere se vi trovasse qualche cosa ma giunto al fico non vi trovò nient'altro che foglie perché non era la stagione dei fichi dall'apparenza che aveva questa pianta ci dovevano essere dei frutti ma Gesù disse nel verso quattordici rivolgendosi al fico gli disse nessuno mangi mai più frutto da te il fico non c'entra niente sono i discepoli che hanno capito perché il Signore non parlava al fico parlava ai discepoli guarda che cosa c'è dietro a questo verso molto importante lo dirono leggiamolo un'altra volta i suoi discepoli lo dirono Gesù stava dando la lezione ai discepoli Gesù sta dando la lezione a noi questa sera la scena del fico è un esempio pratico che tipo di esempio pratico Gesù ha detto ascolta bene io vi ho scelto perché voi dovete portare frutto e il vostro frutto sia continuo ma noi dimentichiamo facilmente allora Gesù per far restare impresso l'esempio pratico come fa sempre lui ha detto al fico tu tu mi senti ha detto al fico nessuno mangi più frutto e si maledetto ma questo serviva ai discepoli e i discepoli lo dirono Gesù voleva dare una lezione a loro e capirono in pratica nel verso 20 ebbero il riscontro per lasciare un'impronta profonda la mattina passando videro il fico seccato fin dalle radici signore grazie Pietro non solo capì ma gli restò in mente la lezione era per i discepoli la lezione è per noi ci ha rimesso un fico il signore ma per farci comprendere che noi non dobbiamo continuare a portare foglie 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 perché arriva il momento che non abbiamo più la possibilità di portare frutto passa la stagione non ci riusciamo più nella vita succede di tutto e di più dimentichiamo abbiamo altri impegni e ci chiama il signore prima succede un incidente tutto quello che succede che può succedere trascuriamo impegni della vita e non abbiamo portato frutto che cosa ci succede veniamo tagliati veniamo seccati non abbiamo più comunione con Cristo perché perché lui vuole che noi portiamo frutto ci ha messo nella sua vigna e la lezione serve per noi Pietro lo capì molto bene Pietro non solo capì ma gli restò in mente perché nel verso 21 leggiamolo insieme questo serve a noi stasera sorella Pietro ricordatosi gli disse ravai vedi il fico che tu maledicesti è seccato il fico serviva come lezione Pietro capì e si ricordò Gesù rispose nel verso 22 bellissimo e disse a Pietro e dice a te e a me Gesù rispose e disse loro voi dovete avere la fede di Dio tradotto in parole diverse il Signore vuole credenti che abbiano fede in Dio che siano fedeli a fare quello che devono fare il Signore vuole credenti fedeli che agiscono in fede si muovono in fede esercitano la fede ed ubbidiscono al Signore e portano frutto alberi piantati che non portano frutto faranno questa fine faranno no il Signore parla a noi stasera non parla a Pietro Signore aiutaci non quelli che portano solo foglie Signore aiutaci stasera Pietro comprese la lezione e credo che non si dimenticò mai più nella sua vita aver visto un verdetto di Gesù egli non si fermò di portare frutto era sempre in prima fila basta guardare nel Libro degli Atti Pietro di qua Pietro di là Pietro che testimoniava Pietro che interpretava le 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 profezie di del profeta Gioele Pietro che evangelizzava Pietro perché? perché la lezione gli restò talmente impressa sapendo sapendo che Gesù è buono sapendo che Gesù è amore che Dio è amore però il Signore non fece questo danno neppure a Giuda che sapeva che lo tradiva non eliminò Giuda anzi lo fece mangiare nel suo piatto finché fino all'ultimo ma lui ci rimise il fico per dare una lezione di cosa vuole Dio Signore vuole non credenti che sono solo foglie vuole credenti fedeli che hanno la fede in Dio e perseverano ogni giorno così fece Pietro queste lezioni pratiche lo aiutarono a non mollare fino alla fine dei suoi giorni non si fermava più perché si sentiva onorato di essere stato piantato nella vigna del Signore e per lui non portare frutto era una vergogna perché sapeva che l'insegnamento pratico che aveva imparato era troppo forte Gesù rispose che vuole persone che hanno fede non quelli che sono solo foglie Pietro non dimenticò questo serve a noi nel capitolo undici di Marco verso quattordici rivolgendosi al fico gli disse nessuno mangi più frutto da te e i suoi discepoli lo dirono questa è la lezione che serve per me e per te Gesù Gesù nel suo amore lasciò questo fico e prese un altro fico perché lui usava le parabole in Luca 13 7 dice comunque non voglio essere molto rigido che li faccio seccare tutti disse dunque al vignaiolo ecco sono ormai tre anni che vengo a cercare frutto da questo fico e non ne trovo taglialo perché sta lì a sfruttare il terreno perché il Signore ti ha scelto e ti ha messo nella sua vigna perché desidera che tu porti frutto noi quanto tempo dobbiamo aspettare per comprendere quello che il Signore dice con le sue parabole con i suoi insegnamenti ma sono chiari in Giovanni 15 16 dice che lui mi ha scelto e ti ha scelto perché dobbiamo portare frutto continuamente se ancora stiamo con solo foglie quale sarà la nostra fine l'abbiamo visto col fico Dio ci ha rimesso un fico per dare la lezione a noi Signore aiutaci c'era un contadino qui poco lontano che si doveva sposare si fidanzò con una ragazza che era un po' sbogliata i genitori gli dissero guarda che questa non ti aiuta non ti fai servizi in casa questa fa fare tutto a te tu non ti preoccupare papà ci penso io si sposò quella ragazza un giorno andarono in campagna e avevano un asino l'asino andò a pascolare nel campo del vicino disse il contadino all'asino va via da quel terreno non pascolare lì perché se vengo ti ammazzo l'asino l'asino non si muoveva perché non capiva lui andò e ammazzò l'asino poi la sera disse alla moglie prendi il basto quello che si mette sopra le spade dell'asino mettitelo sulle spalle e portalo a casa stasera perché se no ti ammazzo la moglie aveva visto l'asino che era stato ucciso pensò vuoi vedere che questo fa la stessa cosa con me la sera si mise il basto dell'asino sopra le spalle e passavano davanti alla casa del padre del marito il marito chiamò il papà uscì il papà e trovò la nuora con il basto dell'asino sopra le spalle il figlio il figlio papà ti salutiamo e la trovò con il basto sopra le spalle della moglie disse al figlio ma come hai fatto per fargli portare questo basto sulle spalle il figlio il figlio rispose ci ho rimesso l'asino perché per dare la lezione a mia moglie ho dovuto uccidere l'asino che cosa vuol dire questa parabola Gesù ci rimise il figo per dare la lezione ai discepoli chi sono i discepoli sono io e te seccò il figo ma Gesù l'aveva detto loro udirono quando passarono nel verso 20 videro che era successo che aveva detto Gesù acquistarono fiducia nella parola di Gesù Pietro comprese non si fermò mai più stasera spero che comprendi tu che cosa dice il Signore hai capito Signore aiutaci questa sera attraverso la sua parola sta già mettendo il concime dentro di te perché la sua parola è quella che concima la fede che noi dobbiamo esercitare la fede viene dall'udire la parola del Signore quando noi udiamo la parola del Signore cresce la fede ma dobbiamo applicare in pratica quello che il Signore dice leggiamo in Luca 13 8 che sei bello Signore Luca 13 8 dice così ma l'altro gli rispose Signore lascialo ancora quest'anno zapperò intorno e gli metterò del concime sta manifestando la sua pazienza Signore aiutaci stasera la lezione serve per noi in Marco 11 14 io vado un poco piano perché questi sono ragionamenti di contadini rivolgendosi al fico gli disse nessuno mangi mai più frutto da te e i suoi discepoli lo dirono ma tu tu e io stiamo udendo la lezione o no sai queste parabole ognuno li spiega un po' nel miglior modo che si può perché le parabole non si possono fare dottrine non hanno dei punti fissi sono interpretabili secondo quella che è la cultura di ognuno per comprendere ma qui la lezione è chiara il signore non vuole che noi portiamo foglie vuole che portiamo frutto perché se no come il fico è seccato così succede pure a te e a me sorella fratello lui si aspetta che tu e io prendiamo in considerazione quello che Gesù dice perché qua è simbologia nel capitolo 13 di Luca verso 9 signore aiutati forse darà frutto in avvenire se non lo taglierai la lezione serve a noi come servì a Israele se non ascoltiamo da un momento all'altro fa seccare noi perché il signore è compassionevole però lui sta facendo tutto in Marco 13 21 cerchiamo di comprendere questi collegamenti così perché i due fichi hanno un significato profondo e simbolico allora se qualcuno vi dice no 13 Marco 13 21 Marco 11 21 chiedo scusa c'è un errore Pietro ricordandosi gli disse rabbai vedi il figo che tu maledicesti è seccato e Gesù lo sapeva già ma questo serviva signore aiutarci per dare la lezione secondo te questi due fichi stasera veramente il signore è interessato nei fichi questi sono gli esempi che ci aiutano a comprendere che noi siamo stati piantati nella vigna del signore lui ci sta concimando attraverso questo insegnamento per metterci in guardia e dire che guarda che arriva il momento che finisce la tolleranza è ora che cominci a portare frutto il figo sono io e te il signore vuole che dobbiamo avere fede dice in Marco 11 22 Marco 11 22 dice così Gesù rispose e disse loro guarda che risposta che sembra strana invece non è strana Gesù dice che voi dovete avere frede dovete essere fedeli lui cerca credenti che hanno fede e sono fedeli nel portare frutto fedeli nelle piccole cose perché lui ci darà le grandi la parola fede vuol dire stringersi a Dio e cercare di mantenere una comunione continua con lui perché se manteniamo una comunione continua con lui noi portiamo frutto ma non siamo noi che lo portiamo è lui che fa fruttare il talento che ci ha dato Signore aiutaci i credenti fedeli sono quelli che il Signore vuole il Signore vuole credenti praticanti non credenti professanti Signore aiutaci di professori ce ne sono troppi e di professanti non ne parliamo il Signore vuole che noi siamo fedeli abbiate fede in Dio chi ha fede in Dio come Abramo il nostro padre lui perseverava ogni giorno nel portare avanti il piano con Dio era uno che portava frutto e Dio lo benediceva il Signore vuole frutto fratello sorella vuole il frutto perché ti ha piantato nella vigna e lui ti sta dando da nutrire ogni giorno mette il concime attraverso questo canale dovunque ti trovi sui social il Signore sta concimando la tua vita ventiquattro ore al giorno con ministeri diversi ci sono evangelisti dottori profeti c'è di tutto e di più questo è tutto concime che gli mette ogni giorno nella tua vita e tu sei responsabile e anche questa sera sta mettendo il concime che rafforza la tua fede nel Signore perché è la parola di Dio che produce la fede quando noi la mettiamo ad effetto la nostra vita spirituale si ravviva si fortifica e portiamo frutto c'è un canto che non dobbiamo cantare sia la nostra preghiera stasera il numero 782 fammi un servo fedele fammi una serva fedele abbiate fede in Dio se noi esercitiamo la fede nel Signore Lui ci guida e la fede fa portare frutti alla gloria del Signore ci ha rimesso un fico il Signore ma ha dato la lezione a Pietro perché gli sarà restato impresso il pensiero che se io non porto frutto viene il momento che faccio la fine di quel fico e non si fermò più io spero che tu non vuoi restare stasera un fico superficiale piantato nella casa del Signore nella Chiesa dove frequenti nell'ambiente che tu servi il Signore si aspetta frutto perché lui ha detto così 15 Giovanni 15 16 non ripete ai nostri orecchi ascolta leggiamolo insieme devi portare frutto perciò ti ha scelto il Signore le foglie lasciale che li tengano gli altri tu porta frutto Giovanni 15 16 ti voglio ricordare perché il Signore ti ha scelto se non porti frutto vieni tagliato vieni seccato Signore aiutaci non sei tu che hai scelto te stesso non sei tu che hai scelto te stessa ma il Signore ti ha scelto e ti ha costituito perché tu vai e porti frutto è il frutto che tu devi portare sia continuo fino a che ti chiama il Signore finché ti dà la mente da poter ragionare finché puoi mettere insieme finché il senso della ragione perché in questo modo tutto quello che chiedi per che ti serve per servire meglio il Signore Dio te lo dà un servitore fedele una serva fedele esercita la fede nel Signore questa mattina mentre pregavamo il Signore ci ha fatto sentire forte che dobbiamo cercare altri satelliti ma tu ricordi che ti ho detto stamattina che abbiamo lo scoperto passato ma il Signore vuole che noi cerchiamo altri satelliti come faremo quelli che hanno fede rispondono a ciò che dice il Signore di fare poi il resto il Signore risponde e il Signore provvede se non avessimo fatto così saremmo ancora nel nostro vallo di Diano con una tv che non aveva ragione di esistere il Signore vuole che noi portiamo frutto vuole uomini e doni di fede e quando Lui parla noi crediamo e camminiamo con la guida che il Signore ci dà esercita la fede muoviti in fede quando il Signore ti dice qualcosa falla sii fedele nelle piccole cose lui non ti chiede mai le cose che non puoi fare tu a ognuno di noi chiede quello che è il collaudo che egli ha fatto della tua vita della tua fede ma la cosa peggiore è se tu paoneggi in una forma religiosa e non fai niente allora preoccupati perché il Signore ci ha rimesso il figo per dare la lezione ai discepoli i discepoli stasera sono io e te quando glielo confermò nel verso maestro vedi il figo che tu maledicesti è seccato e Gesù disse abbiate fede in quello che dico io e fate quello che dico perché voi dovete portare frutto l'esempio del figo che seccò e l'esempio del figo che ci ha messo un po' di concime stasera serve per me e per te perché il Signore questa sera attraverso la sua parola ha messo concime dentro di te perché tu devi portare frutto perché se no ti tieni se ti dai da fare allora il Signore ti benedice se tu non porti frutto hai visto il figo seccato che fine ha fatto così sarà con te farai la fine di Israele tre anni il Signore ha continuato a parlare anziché migliorare e peggiorato se tu non ubbidisci subito anziché migliorare peggiori hai visto Israele i guai che ha passato sono duemila anni e ancora ma quello è il popolo di Dio ma è il popolo di Dio formale non è il popolo di Dio che Dio voleva che doveva essere Signore aiutaci io credo che è tutto chiaro se hai orecchi chi ha da udire vuoi udire bene il Signore parla a noi singolarmente facciamo facciamo la nostra parte e lui farà la sua preghiamo insieme prega insieme con me Signore ti ringraziamo che attraverso queste parabole da contadini che tu ci dai però ci fai comprendere perché tu prendi questi esempi da contadini per farci comprendere che se non portiamo frutto siamo destinati ad essere seccati non avere comunione con te facci ritornare a te questa sera e facci essere fedeli e portare frutto per la gloria tua te lo chiediamo insieme nel nome di Gesù Cristo amén 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 il Signore desidera da noi da me e da te che portiamo anime raggiungiamo l'estremità della terra perché questo Evangelo deve raggiungere l'estremità della terra e si vuole servire dei credenti di te e di me ma come faremo lui dice che lo dobbiamo fare e noi lo facciamo il Signore provvederà ci dice il nostro padre Abramo e al momento che serviva il Signore provvide l'agnello egli ha provveduto il suo figlio per noi e ciò che stiamo ascoltando sono le parole del suo figlio e perciò noi crediamo abbiamo fede in Dio e adesso dobbiamo fare passi di ubbidienza dobbiamo muoverci noi e ti devi muovere anche tu diversamente l'esempio diventa la nostra storia vogliamo ringraziare il Signore per la sua parola preghiamo Signore grazie per la tua parola ti rendiamo l'odio onore e gloria ed ora Signore veniamo a te insieme invochiamo la tua divina presenza il tuo santo spirito che continui a parlare ai nostri cuori per farci comprendere personalmente la nostra parte quello che noi dobbiamo fare per portare frutto per la gloria tua spirito santo di Dio noi chiudiamo questo culto nel nome di Gesù spirito santo noi benediciamo nel nome di Cristo tutti coloro che ascoltano questo messaggio tutti coloro che seguono parole di vita ma continua a parlare tu perché tu stai mettendo concime ogni giorno e desideri che noi portiamo frutto aiutaci e lo chiediamo insieme nel nome di Gesù amén amén amén